buongiorno a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo spacchettamento allora mi è arrivato questo pacchetto ora vi spiego mi è arrivato da Pipo Pipo Kawaii Shop ho fatto un ordine sulla loro pagina facebook ve la lascio nell'info box e ho ordinato una candy box a tema Halloween e sono veramente troppo eccitata allora vi dico subito che questa box viene a costare 15 euro più 3 euro di spedizione quindi 18 e andiamo subito da brillo vediamo oh mio dio non so se vuoi veramente un adesivo di Pipo Kun ah si è un adesivo ok so che volevi un mio santino adesivo ok si lo volevo ok allora io non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro veramente è bellissima questa box ok io non voglio aprirla è troppo bella sono troppo contenta ok scusate allora qui c'è scritto happy Halloween l'ho ordinata subito perché c'erano pochi pezzi spero che ancora potete trovarla e tutti gli snack oh mio dio cioè allora qualcosa li avevo spiaccicato però tutti sono tutti allora siccome ho paura che magari nel video assaggi non riesco a farvele vedere tutte ve le faccio vedere prima allora innanzitutto c'è questo sembra un po' flaccidina ed è un gattino poi c'è una forse una caramella alla zucca poi un un biscotto due biscottini di pippo comunque sulla loro pagina ci sono tantissimi snack a tema ok guardate 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 erano caduti tutti questi pipistrellini poi c'è questo che è un halloween wafer con il la cicatrice poi oh mio dio c'è un marshmallow e dovrebbe essere alla zucca perché qui c'è la zucca no? sì spero di sì poi ci sono veramente troppe cose qui c'è una questa è tipo una mentina forse forse con il gattino poi c'è qualche cosa di strano tipo questo e sono credo patatine a forma di fantasmino col cappello patatine non lo so non lo so poi c'è ci sono dei prez 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 sempre a tema loguinnoso dei prez ok poi c'è questo che si è un po' spiaccicato non so non so che cos'è però è la forma di diacoletto cioè io sto facendo questo video però non so cosa siano queste cose però volevo farvele vedere meglio ok questo è veramente inquietante non so cioè sembrano pancakes di zucchero strani non lo so gommosi caramelle e non lo so oddio l'ho spezzato ok comunque anche questo non vedo l'ora di provarlo poi ci sono delle caramelle milky sempre cioè allucinante sempre a tema halloween poi c'è un'altra penso questa sia una barretta forse di cioccolato sempre a tema cioè halloween penso ok e qui ci sono tutti i miei picchi strellini e poi c'è un happy halloween caramella sì perché è morbidosa io magari rompo qualcosa nel frattempo e c'è anche questo che è un biscottino di my melody sempre a stile tipo con la col cappello da stergetta allora io ora vi faccio vedere tutti questi snack mi sono arrivati nella box io non vedo l'ora di fare il video assaggi spero che questo video vi sia piaciuto anche perché ogni volta magari nel video assaggi non faccio vedere bene le cose a volte male video e niente io vi saluto e ci vediamo al video assaggi ciao